a beveghe deeio ah ma sto registrando ma porca p... allora questo è un video molto 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 bello si può già capire no? vedete questo nuovo Marvel Soccer vi ricordate la dovevo scrivere i gironi? ora ci stanno i gruppi ah proprio ho fatto poche partite facciamo Austria Svizzera potete mettere i vostri club preferiti e le nazioni e i colori che ne sono 100 ora dunque per non farvi perdere il tempo aspetto che fanno gol 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 1 1 a 1 che cazzo sta succedendo? allora 3, 2 Aiuto Questo è un video Questo, così, è un video Wow, wow Wow E l'Austria è prima E noi abbiamo Vedete il gamer c'è tutto E il secondo, porco tu Ragazzi, ragazzi, buongiorno Ragazzi, buon corno Ragazzi, buon forno Samarino contro il calcio Attenzione, erete Sentiamo il Samarino Samarino in partenza Non va bene, Achille e Lauro Cioè, si codifica, ma poi non vince mai un calcio La Macedonia ha vinto il mondiale Che schifichi, cioè I Wuhu Wuhu Ah Cazzo No, 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 cazzo Ho fatto un giallo Perfetto Ho fatto un infante Come lo giusto Vabbè, è facile Sono dei fazzoletti E uno Un poco sminchiato Ma non fa niente Cioè, dai Basta Wow, ragazzi L'ho aggiustato Sono un dio Di fazzoletti Comunque, ragazzi Io voglio soltanto dire Che ho Ho fatto un tavolino Di pedane Sì, mi ha aiutato il mio zio a farlo E mi manca soltanto la sedia Quindi, a Mercogliano Centro Mercogliano Centro No a Capocastello Ma a Mercogliano Dove sta un macellario Macellaro E Vabbè Un bar E una farmacia La ci dovrò essere Che mi metto a vendere figurine Quindi Chi vuole venire Credo soltanto sabati e domenica E' uno sponsor Ho aggiustato il pacchetto Che cazzo era quel rumore Non lo so mai Non lo so mai a lello di franza la foranza di bluetooth 0 a 0 partita questo ragazzi è un video parodi la juve va in europa league la juve fa cacare perchè quest'anno ho deciso di fare così non mi mettete copi ragazzi comunque non posso fare live fino a 13 anni e finchè non ho mille iscritti quindi le live le vedrete fra tre anni anni capito tra tre anni dai shit shit video parodi ah non avevo stoppato no la freccia è in vantaggio cacchio perchè non avevo stoppato stoppato questo michele sarà molto glorioso glorioso perchè lui è ama il giallo sta vincendo 2-1 contro la francia ma che me ne frega di media vatican ok itali slovak itali slovak itali slovak adesso facciamo 12 minuti adesso facciamo 12 minuti perchè poi devo sono impegnato ci vediamo direttamente stasera stasera faccio il passo lo facciamo di un'ora non sto scherzando non sto scherzando mica mi metto la mura comunque sto facendo la postazione l'italia sta perdendo 1-0 porco vabbè la slovakia è andata in finale ha perso contro la turchia è venito la turchia non mi piace credo la tua volta pesante grande ciccione ciccione aaaaaaah c'è un raggio aaaaaah aaaaaah fai 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 infatti c'è un ragno la aaaaaaah ho fatto soldi e sono diventa ho fatto carta igienica e sono diventato carta mamma mia SI una 1 VAI no perizia ma è arrivata gente a casa che casa stavolitando una va bene no mi interessa La Slovacchia sta vincendo contro l'Italia Non va buono Già la Juve perde Andiamo in Europa League Contro l'Unarite della Roma Il Villareal? Sì E il Barcellona anche Credo Comunque Io tifo anche il Real Madrid Perché vince sempre Italia Parigi 2-2 contro la Slovacchia Siamo primi Primi non ci qualifichiamo al mondiale Mi sembra giusto Freddy Vaticano C'è un ragno Porco 2 E una tarantola C'è un Sì Freddy 1-0 Vaticano 0 Puff Non sta succedendo niente Non sta succedendo niente Questo è duuus C'è un ragno 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 Comunque ragazzi C'è un ragno C'è un ragno C'è un ragno Veramente C'è un ragno C'è un ragno C'è un ragno gigante, è sulla mia mano, ora prendo i fazzoletti, muori, Vodafone, muori, ragazzi, chi odia la scuola, io sono il primo al mondo, perché mi devo svegliare le 8 e un po', mi devo svegliare le 7 e vado pure in ritardo alle 8 e 25 e hanno pareggiato i rossi, ha, è caduto per te, oh no, parla dei rossi, cacchia rona, proprio per dire, va, va, non ti ho saluto, ah, 38 mille, ok, che cool, adesso prendo questa carta e la metto dentro la carta igienica, guarda, genio, questo è un involtino di carta, non di prima era, partita finita, concertiamo 12 minuti, perché ci vediamo il prossimo video, e vi saluto, bella agenda ufficiale, domani, 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 domani. Grazie a tutti